Buongiorno 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 Grazie a tutti voi, pensate al giorno che verrà, come era la domità. Ora è un'attesa che variccherà, la nuova esperienza che si può ballare. Di un passo nuovo, un altro ancora, il mondo cambierà, e cambierà. Grazie a tutti voi, pensate al giorno che verrà, come era la domanda. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi. Grazie. 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 Grazie.